...e alla moglie marina, cosmonauta pure lei ed ufologa convinta. In un'altra occasione, il 18 marzo 1965, veniva collocato in orbita il satellite artificiale Vostog pilotato da Berezev e Leonov. Il primo cosmonauta ad uscire dalla capsula e a farsi trascinare in volo nello spazio cosmico fu Leonov. Si saprà poi che egli aveva visto nello spazio un misterioso oggetto rotondo. A tutt'oggi, tutti questi avvistamenti, che si stima siano molti di più, non hanno ancora trovato una spiegazione razionale. È assolutamente interessante, per certi aspetti abbastanza sconvolgente, vedere come in una qualsiasi biblioteca pubblica, nell'attuale Russia, ex Unione Sovietica, sia estremamente facile andare e trovare materiale, anche di provenienza militare, che descrive in modo molto chiaro e coerente e logico, un insieme di casistica e di documentazione in tal senso. In questa ottica, parlare di cover-up, sembrerebbe strano. Peraltro, ricordiamo che proprio qualche mese fa, il presidente della Russia, in un'intervista a una domanda diretta, disse che non era assolutamente interessato al fenomeno UFO. E ciò è molto simile e in un certo senso in completo parallelismo con ciò che, dall'altra parte della ex Cortina di Ferro, molti autorevoli personaggi politici non sostenevano. Diciamo che, analizzando la situazione dell'ex Unione Sovietica, noi vediamo un numero incredibile di documentazione. Spesso, però, è documentazione inutile. La documentazione più interessante paradossalmente sembra sfuggire. E in questo senso, allora, il cover-up esisterebbe. E' importante dire come, però, i casi forse più eclatanti, alla fine vengono decisamente ridimensionati, anche da scettici di professione, e in questo caso fatti bene, in modo decisamente interessante, mentre, d'altro lato, abbiamo casi, anche qui, meno conosciuti, che però rappresentano delle assolute novità rispetto al panorama occidentale che l'ufologia del mondo occidentale è più consona e più vicina a conoscere. Beh, sicuramente i militari, volenti o nolenti, sono costretti a parlarne il meno possibile. Lasciamo perdere tutte quelle che sono le famose teorie, secondo le quali ovviamente ci potrebbe essere un insabbiamento a livello globale di questo fenomeno. Certamente i militari che sono in carriera, per esempio, evitano di parlarne anche per evidenti motivi di credibilità anche presso i propri superiori. Di sicuro all'interno dell'organismo militare esiste un controllo su questi avvistamenti e questo avviene continuamente in tutti i paesi. Non solo gli astronauti guardano lo spazio con interesse. Sembrerebbe che anche la Chiesa voglia in un qualche modo, se alieni ci sono, evangelizzarli e proprio per questo sembrerebbe che esista un vero e proprio catechismo, chiamato Catechismo per EIT. Vediamo insieme il servizio. Anche la Chiesa si è interessata agli extraterrestri e sebbene non esista al momento una posizione ufficiale a favore o contro, in Laterano esiste una cattedra di ufologia diretta dal gesuita padre Andreas Resch. In Arizona un altro gesuita, padre Cohen, dirige il progetto di ricezione di radio messaggi alieni dal cosmo, il SETI Project, convinto, lo ha dichiarato nel 1993, che la Chiesa abbia addestrato missionari da inviare nell'universo. In Francia per costoro è stato realizzato un vero e proprio manuale di istruzioni per UFO, intitolato Dio, la Chiesa e gli extraterrestri, scritto in previsione dei missionari che un giorno vivranno nello spazio. In realtà esiste una teologia sugli extraterrestri già dall'VIII secolo d.C. Il dizionario interdisciplinare di Scienze e Fede rivela che già in una lettera di Papa Zaccaria si menzionava un presbitero, Virgilio, che insegnava una dottrina sulla pluralità di mondi abitati, ma che l'idea che potessero esservi abitanti sulla Luna o sul Sole non piaceva neanche un po' al Pontefice, perché metteva in discussione l'antropocentrismo. Niccolò Cusano, cardinale nel Quattrocento, parlava della possibilità che i corpi celesti fossero abitati, non vedendo in ciò nessuna difficoltà per la fede. Nel XIX secolo, padre Angelo Secchi, fondatore dell'Osservatorio del Collegio Romano, nel suo libro Il Sole, sostenne come estremamente probabile che le stelle fossero abitate, sembrando assurdo pensare che spazi così enormi fossero vuoti, senza cioè un'intelligenza capace di dar gloria al suo creatore. Padre Joseph Paul scrisse nel 1884 I Mondi Stellari e i loro abitanti, un'opera rieditata più volte per circonventennio, in cui affermava che essendo l'universo fisico così esteso ed essendo il fine della creazione dare gloria a Dio, se ne deduceva che tale gloria dovesse essere tributata da tanti esseri intelligenti disseminati per il cosmo e che, a differenza degli angeli che sono solo spirituali, mantenevano una relazione con l'universo materiale, potevano essere appunto gli abitatori di altri pianeti. Questa conclusione venne inserita nel più diffuso manuale tedesco di teologia della metà del XX secolo, il cattolice Dogmatic di Schumaus stampato a Monaco nel 1957. Vendita attività commerciali, artigianali, industriali, vendita immobili, telefono 02-3272-448, vendere aziende, da 15 anni il nostro lavoro. Vuoi acquistare, vuoi vendere un'azienda? Cogefim, vendita attività commerciali, artigianali, industriali, vendita immobili, telefono 02-3272-448, vendere aziende, da 15 anni il nostro lavoro. Apri gli occhi, apri il tuo serramento FS e apri la tua casa al mondo di vantaggi, arredato di porte, finestre e persiane, le più belle, quelle che ammirate nelle case più prestigiose o sulle riviste più blasonate. FS aggiunge più comfort, eleganza e sicurezza alla vostra casa. Vieni da FS Serramenti, costruiamo insieme il tuo sogno, la tua casa, professionalità e competenza, misurazioni senza impegno e senza farti perdere tempo. E poi da FS compri ora e paghi in 36 comode rate messili a tasso 0. Il montaggio dei serramenti FS è un capolavoro, personale qualificato e discreto, per un lavoro rapido e preciso senza l'intervento di muratori. Una casa elegante e sicura per te è un sogno? FS Serramenti lo realizza. Parola di Lazaro, FS Serramenti in piazza. Allora, mi devo ripetere che gli alieni dicono che l'uomo della Terra ha perso i suoi valori naturali. Ci sono molti infanticidi, ci sono molte cose che un tempo forse c'erano, ma venivano riportate in un modo diverso. Anche i mezzi di comunicazione praticamente alternano un po' le funzioni della natura stessa dell'evento. Quello che dicono è di cercare di guardare il cielo e di scrutare, perché dal cielo verrà la salvezza dell'umanità. Poi quello che dicono con molta foga è che gli acciai si stanno sciogliendo e che ci saranno delle ripercussioni a livello planetario. E anche a livello delle persone, perché ci sono dei microorganismi che a contatto con l'aria prenderanno una forma che il medico stesso non potrà curarli. Comunque, quello che loro dicono è di amarci, di avere per il prossimo, come si può dire, una grossa tollerabilità. E basta, loro non è che guardano nessun tipo di religione. Siamo una razza unica e praticamente dobbiamo far sì che questa nostra umanità non sia solo un sogno fra 20 o 30 anni, perché ci potrebbe essere un'esplosione all'interno del pianeta e vari continenti arcipelico sarebbero spersi per il pianeta stesso. Ecco, questa sarebbe la cosa più delicata e più bella. E poi, in un secondo tempo, ribadiscono che l'uomo fa delle orribili cattiverie e la manipolazione genetica, che adesso viene chiamata con l'azione, è stata fatta molto prima di Dolly e di quelle creature che poi alla fine sono morte. E queste persone che hanno fatto, io l'ho ribadito questo evento dieci anni fa al Colle e non posso dire a chi mi ha sentito, perché c'erano delle persone che non so se li va di bene. E queste persone, maschi e femmine, sono praticamente 17 e 18 e non sono riusciti però ad avere da loro stesso l'attrazione, di avere la procreazione e sono praticamente deperiti. Ma questo non si è fermato, perché all'epoca, 11 anni fa, ho avuto una formazione di messaggio e negli ultimi tempi ho avuto la completezza, che più avanti, quando avrò magari un altro modo di spiegare più a lungo, derò...